Salve a tutti gli amici di Marcosbox e ben ritrovati nel consueto video riassunto della settimana con tutte quante le notizie che sono state postate su Marcosbox durante la settimana da me e dai miei amici. Cominciamo con la prima notizia e cominciamo con parlare di AMD. AMD ha fatto sapere di avere intenzione di riconsiderare la sua strategia per quanto riguarda il rilascio dei driver partecipando più attivamente allo sviluppo della controparte open così come fa attualmente Nvidia. Questo alcuni ci vedono una mossa proprio per contrastare Nvidia per quanto riguarda il mercato delle Steam Machine che come ben sapete fanno uso di una versione modificata di Debian pensata appunto per il gaming Steam OS. Vedremo quali benefici porteranno agli utenti questa più stretta collaborazione di AMD con la comunità. Passiamo adesso invece all'editoriale di Domenica di Rodrigo. Rodrigo come ben sapete ha un negozio di informatica e quindi si trova costretto a dialogare con gente che utilizza sistemi operativi anche Windows. anche se come ho più volte ripetuto Rodrigo è un portatore di Linux nel mondo degli umani perché continua a proporre la sua versione di Xubuntu modificata e la installa alle persone che hanno l'intenzione di abbandonare Windows perché la macchina non permette più quindi sta evangelizzando il mondo. Nel suo editoriale racconta un'esperienza che gli è capitata con un utente che era stato convertito e poi è voluto tornare sui suoi passi e tornare purtroppo su Windows XP. Passiamo adesso alle notizie riguardanti il mondo di Linux Mint. La scorsa settimana come abbiamo visto è stato annunciato il nome in codice della prossima release di Linux Mint. All'interno del medesimo post a seguito di alcune domande poste dalle persone Climente Referebbe per gli amici CremCrem ha detto, si è lasciato scappare un'indiscrezione riguardo la possibilità di cambiare il ciclo di sviluppo di Linux Mint. A quanto pare Linux Mint 17, Linux Mint 18, Linux Mint 19, Linux Mint 20 avranno tutte quante come base Ubuntu 14.04 LTS Quindi una base più solida, meno problemi legati al solito problema connesso al release di Ubuntu Come ben sapete, se una release intermedia fra LTS di Ubuntu fa schifo cosa che capita a quanto spesso di conseguenza anche Linux Mint fa schifo perché appunto viaggiano parallelamente In questo caso, con questa nuova strategia avranno comunque una base solida per tutte queste release intermedie anche per le release intermedie perché appunto è una LTS e il team di Linux Mint si potrà concentrare maggiormente sullo sviluppo dei desktop quindi su Cinnamon e lo sviluppo anche di Mate perché come ben sapete è stato adottato diciamo così dal team di Linux Mint vedremo, vedremo staremo a vedere come si comporteranno le prossime versioni di Linux Mint se avrà confermato passiamo adesso all'evento della settimana il primo evento che si è già tenuto durante la settimana è stato quello della venuta di Richard Stallman a Milano il 26 marzo presso il Talent Garden di Milano con un intervento dal titolo Free Digital Society sapete bene che cosa tratta Richard Stallman in questi suoi interventi le prossime date di Richard Stallman in Italia sono ben tre perché Stallman oramai ha preso la cittadinanza italiana gli piace il nostro paese visto che sta sempre qui a fare interventi la prima tappa il primo incontro sarà il primo prossimo incontro sarà quello di di Palermo perché Richard Stallman sarà presente al Palermo verso lo Linux Meeting 2014 una tre giorni di eventi e Richard Stallman sarà ospite della seconda giornata perché giorno 29 se non vado errato sì, giorno 29 quindi potetelo trovare a Palermo con un intervento che si darà alle 10.30 di mattina quindi se siete di quella zona fateci un salto se però siete siciliani ma non potete raggiungere Palermo non strappatevi i capelli perché ci sarà un secondo appuntamento con Richard Stallman questa volta a Catania il 2 di aprile Richard Stallman sarà ospite della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Catania quindi con un intervento dal titolo in questo caso Free Software and Your Freedom se siete appunto della zona andatelo a vedere perché ne vale la pena io l'ho visto dal vivo e diciamo così mi ha cambiato il modo di vedere tutto quanto appunto del software di tutto quello che c'è connesso tutte le implicazioni morali vedetelo poi vabbè in settimana ci sarà poco incontro che abbiamo pubblicizzato nella scorsa settimana presso presso un incontro a Roma poi avrete maggiori dettagli con link sulla diretta e quant'altro durante la settimana una notizia che ha fatto suscitato clamore ma anche discussione sia in senso positivo che in senso negativo è che un candidato alla presidenza di Debian avrebbe proposto uno strumento simile ai PPA di Ubuntu anche in Debian al fine di garantire una maggiore flessibilità di Debian di stare più o meno a passo con con il reddit e quant'altro questa idea come vi ho detto non è che è piaciuta a tanti perché si fa sempre il solito discorso ma chi proprio mantiene questi repo cicciopanza o mantiene uno sviluppatore come si deve perché come ben sapete anche su Ubuntu spesso e volentieri ci sono alcuni repository alcuni PPA che vengono mantenuti da utenti che non sono proprio tanto esperti quindi si possono avere problemi per quanto riguarda programmi malimpacchettati anche se poi alla fine diciamo io sono un utente Ubuntu da parecchio questo si verificava all'inizio diciamo ma adesso da un due tre anni a questa parte io non ho mai avuto problemi riguardanti PPA che hanno generato casini eppure aggiungo diversi PPA esterni sviluppati e mantenuti da gente che lo fa così soltanto per hobby per passione comunque vedremo come si avvolverà anche in questo caso la situazione nella giornata di oggi di cui abbiamo anche un infiltrato in questo evento si svolgerà meglio giornata del 28 29 e 30 marzo lo spaghetti open data 2014 che cos'è è un evento che si tirerà a Bologna una tre giorni di incontri rivolte a tutti quanti gli utenti che hanno a cuore il tema dei dati aperti ci saranno appunto tre conferenze con un hackathon e anche dei mini corsi nella giornata di domenica 30 se siete in quel di Bologna o zona limitro fateci un salto in settimana è stato poi rilasciato il tanto atteso la tanta attesa versione 3.12 di Gnome il popolare desktop del piedone che tanti amano il secondo desktop più amato anzi come l'ho pubblicizzato visto che KDE è risultato vincitore durante il Sebit vabbè bando novità di questa versione adesso con miglioramenti nell'app menu miglioramenti nell'introduzione delle jump list di unity con il network manager subito del restyling il nuovo player video che è stato ridisegnato il nuovo polari la nuova versione dell'editor di test get it andatevi comunque a vedere poi l'introduzione questa è interessante del Google Cloud Print Service andatevi comunque a vedere andatevi a vedere il post che è presente anche un piccolo video che riassume tutte quante queste novità di Gnome 3.12 attualmente soltanto su Fedora potete avere un Gnome 3.12 puro però con l'aggiunta di un repository tra virgolette non ufficiale perché il corporate come cavolo si chiama quel repository che lo aggiungete al vostro rischio e pericolo perché su gli atelisto su Ubuntu c'è sempre il solito PPA Gnome 3.next che però è stato aggiornato soltanto per trusty e comunque non ha proprio tutti i pacchetti all'ultima versione quindi per un'esperienza più pura provate provate Fedora anche tra parenti si è stata anche rilasciata un live DVD con con appunto l'ultima versione di Gnome 3.12 presa da questi di questi repository quindi se volete provare scaricatevelo e vedete torna anche in questo caso anche questa settimana la rubrica Marcos Box io anche perché se non lo dico così mi picchia no? vabbè sto scherzando che cos'è? è una nuova rubrica ideata da Stefano che è praticamente un contenitore di tutte quante le notizie che Stefano trova per la rete che magari non hanno avuto modo di essere approfondite con post vuoi perché non sono strettamente legate al mondo Linux vuoi perché non ci abbiamo avuto voglia di farci il post dedicato le notizie le notizie sono le notizie più disparate ad esempio questa settimana è stata postata una notizia riguardante la decisione da parte di Microsoft di donare il codice sorgente di EMS e DOS del primo Word al Computer History Museum andare a vedere il codice sorgente se siete interessati se vi piacciono queste cose un'altra notizia riguardante il mondo della geolocalizzazione è quando alcune notizie riguardanti il mondo di Street View di Google sembra che le macchine di Google oltre a catalogare a raccogliere i dati del Wi-Fi diciamo in maniera quasi truffalvina raccoglono anche informazioni riguardo la profondità delle immagini quindi si pensa che ci siano possibili utilizzi futuri per quanto riguarda la guida automatica quindi fanno questo raccoglono questi dati in virtù della possibilità di aggiungere questa nuova funzionalità appunto che come ben sapete Google sta sviluppando questa macchina con la guida automatica che potrà far piacere a molti e vabbè poi ci sono altre notizie andatevele a leggere concludiamo questa settimana con il rilascio dell'ultima versione beta di Ubuntu 14.04 di tutta la famiglia delle derivate io ho dedicato un posto solamente a Ubuntu 14.04 beta 2 perché Ubuntu è quello che utilizzo e perché era interessante far notare la presenza di KDE 4.13 attualmente in versione via di sviluppo all'interno di Ubuntu 14.04 GTS quindi c'è stato un cambiamento in corso una decisione di aggiungere KDE 4.13 a Ubuntu che fa piacere perché tutti quanti gli utenti KDE troveranno una disto aggiornata in Ubuntu 14.04 l'altra novità di Ubuntu 14.04 l'inclusione di Firefox 28 come browser predefinito che va a sostituire Reconque che non ha mai diciamo così sfondato nuova versione di Mewon Discover che è praticamente una specie di Ubuntu software center nuova versione di Tugro per i driver proprietari il nuovo gestore del touchpad la possibilità di installare i plugin dei visualizzatori di immagini direttamente dall'applicazione stessa aggiornati KDE Instant Messenger aggiornato Plasma Network Manager KDE Connect vabbè piccoli aggiornamenti minori dei pacchetti che comunque fanno sempre piacere bene con questo ho concluso non ho saltato niente mi sono divulgato abbastanza 13 minuti vabbè la prossima volta vedremo di essere più brevi e circoncisi come direbbe qualcuno ci vediamo la prossima settimana lunga vita e prosperità a tutti quanti e mi raccomando condividete il video e fatelo fatelo salire fatelo spammare ovunque in ogni luogo in ogni mare in ogni dove ciao ciao